Bella a tutti e frienze, benvenuti in un nuovo video, ci troviamo su Fortnite, è uscita una nuova sfida 4byte Andiamo a vedere di che cosa si tratta, la numero 95 che ci richiede Si trova vicino ai pannelli solari nella giungla, ottimo, andiamo a selezionare una di queste qualsiasi modalità di gioco Eccetto la creativa, parco giochi e basta Io me la vado a startare in modalità singolo, ci vediamo in game e vi faccio vedere subito la posizione esatta di questo 4byte numero 95 Mentre stiamo raggiungendo questo nuovo 4byte vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campagna di notifiche Così non vi perdete nessun video dei 4byte quotidiani perché li troverete tutti sopra questo canale Come potete vedere mi sono subito buttato dal base della battaglia Siamo atterrando sul nostro pannello solare e siamo in compagnia di questo ragazzino Speriamo che non ci killi, no, sembra intenzionato anche lui a prendere il 4byte e non la chest Ottimo, eccolo qui, vi faccio vedere anche la posizione esatta dove possiamo trovarlo Ora loro faranno il devasto, sono sicuro Comunque eccoci qui, esattamente in questo stabile troveremo il nostro pannello solare E qui troveremo anche questo 4byte numero 95 Noi ci vediamo più tardi con la live di questa sera E le belle mesame, mi raccomando lasciate un bel mi piace per questo video